Le immagini delle zone alluvionate della Romagna hanno suscitato grande impressione. La preziosa macchina della solidarietà da giorni è pienamente operativa e rimanda alla memoria al 2015, quando la calamità colpiva il Nure e Val Trebbia. Su internet è possibile trovare le mappe del rischio dalle quali emergono le zone allagabili del nostro territorio, campeggi, impianti sportivi, piccoli nuclei abitati o interi quartieri. Dal sito di Allerta Meteo della Regione Emilia-Romagna si può verificare se la propria area può considerarsi fuori pericolo. Le tavole analizzano la città e le vallate. Sono indicate con vari colori le zone lungo i fiumi in base alla pericolosità. Si va dal giallo delle classi con rischio moderato per poi passare a quelle arancioni e rosse, rischio medio e elevato, fino alle zone considerate più pericolose in assoluto, in colore viola, a causa della presenza di insediamenti umani di vario tipo. Ad esempio a Piacenza punti più critici sono la zona militare dello scalo fluviale del Genio Pontieri, l'asse via del Pontiere via Bixio via Finarda e l'attracco di Mortizza. In provincia, tra le zone d'attenzione, risulta anche Recesio, in Valnure, dove l'alluvione del 2015 provocò tre vittime. Trovate tutti i dettagli sul sito liberta.it.